Trollface Quest 4 Non ho visto nessun video sul 4, infatti non lo conoscevo neanche, non sapevo neanche che fossero arrivati al 4 Prima di tutto vi do notizie riguardo a domani, infatti domani probabilmente, sottolineo probabilmente, uscirà Techcraft Ma non vi posso promettere niente, infatti non è la mia responsabilità ma è quella della connessione della corrente Cioè quello che mi permetterà di fare la connessione e anche la corrente che sta avendo problemi In pratica fa degli sbalzi di tensione assurdi che mi spengono sui dispositivi che hanno un alimentatore esterno tipo modem Il portatile non carica più, il fisso si spegne e si riaccende, insomma dei bastardi Quindi mi tocca registrare, diciamo, intermittenza anche io Niente, speriamo bene, probabilmente domani uscirà Techcraft Se no comunque uscirà un altro video perché mi sono ripromesso di dover ricominciare da oggi in poi Infatti ho finito i lavori sulla mia postazione che adesso è gigante, infatti è una schivagna da 2 metri e più Mi serviva proprio perché non avevo neanche spazio per fare i video di Arduino che ricominceranno a breve E poi anche degli unboxing e dei video vari, insomma, poi ve ne parlerò Va bene, adesso iniziamo subitissimo a giocare a questo giochino di merda che odio tantissimo ma è bellissimo perché è simpatico Sentiamo l'introduzione se è possibile Iniziamo Troll phase 4, cosa ci riserverà? Allora Non capisco se è tutto così Ok I tasti, quali sono i tasti? Le fraccette non ho di certo Allora Un fiammifero Perché non cammini? Cammina Oh mio Dio, mi sto già... Oh What the fuck? Ma vaffanculo Spara! Sei una pippa, cara Sei una pippa assurda Dai, per adesso sono semplici Ah What the fuck? Abbiamo un snowman contro uno stickman Che duellano Ah ma... Sei un maiale di merda e io ti ucciderò No, aspetta Calmo Qualsiasi cosa clicky fa così Ma che si può fare? C'è qualcosa? La nuvola? Aha Come cazzo Ah il sole troll Ti amo sole troll Ok Sono una pippa anche io Restart Allora Abbiamo un cacchio di macigno Che ci guarda E ci vuole uccidere Sin qua ci siamo Se io clicco su di lui Mi ammazza Cioè mi dà un pugno E mi stende E non lo so Nel pubblico non posso cliccare Nessuno Nessuno Proprio nessuno E quindi è rimasto da What the fuck? What? Ah Ok Ehm Non ha senso Non è soltanto troll Eppure no sense Gira 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 molto Che così Trappani tutto Non succede niente Ah Posso cliccare sul tipo Ma che cazzo? Non ha senso questo gioco Ma perché mi consigliate Questi tipi di giochi? Non hanno senso Allora Devo fare una discesa Figuerrim Ma Ma sono una pippa Quindi cosa si può fare? Ah Qui non posso cliccare Beh Oh cacchio Ho messo in pausa Ehm Ecco Questo mi mette Leggermente in difficoltà Non c'è niente Su cui poter cliccare Ok Sul Cos'è? Amare questo ghiaccio Non si può cliccare Posso cliccare Solo Solo su di me Ma porca puttana Forse devo cliccare Forse devo cliccare Mentre sto Non ce la farò mai Non ci vedo Oh fuck Oh fuck No Ma come cazzo faccio? No Niente Ok Benissimo Sono bloccato Sul livello di merda Di un gioco di merda Ehm Non so che cosa fare Allora il tipo Ops Il tipo Salta qui No Ho visto qualcosa Ho sbaglio Ho visto qualcosa qui No Eh mi sono sbagliato Può essere Quando si può cliccare Fatemi vedere Io clicco dappertutto A sto punto Oh mio dio Il mouse Sta impazzendo Vabbè che il tappetino Non è il suo Perché Cazzo Sarola Mi sono appena ricordato No Perché Quelli che mi conoscono Sanno che io non ho memoria Di niente E mi sono leggermente Dimenticato Di Ehm Di mettere in nuovo Il suo tappetino Quello originale Cioè Quello della Ehm Della Cooler Master Che è molto comodo Ehm Della Cooler Master Cooler Master Lo so che non mi ricordo Forse è della Corsair Non mi ricordo Comunque Un tappetone Un tappetone Non un tappetino Perché è gigante Ma porca puttana Niente Non ci riesco C'è qualcosa che ho Ho saltato Che non ho visto Non lo so Ehm No Non c'è un cavolo No scusate Ma io non ho idea Di come si faccia Mi guardo Il Walkthrog Ehm Scusate Allora Lo guardo con voi Così Capita che Cioè Lo faccio con La buona fede Non ho idea Di come si va davanti Ehm Qui No Più avanti Ok Next level Davi clicca Allora Si clicca là E poi Ma vaffanculo Allora ci avevo Indovinato però Ma io l'ho fatto Prima No cioè Non ci riesco Non ho No 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 Questo è un problema mio Non ci vedo io Ma vaffanculo Vaffanculo Non ci riesco Ho bisogno di una mano Oh mio dio Il mouse sta impazzendo Devo prendere il tappetino Ma non posso Perché Ho pochissimo tempo Per registrare Oh mio dio Non vola No no Non so come fare Ve lo giuro Ma porca puttana Oh Ah Vediamo un pochino Dove si ferma Devo puntarlo Col mio dito Perché Se no Non so come altro fare Ok No Vaffanculo Mi hanno preso per il culo Non funziona Non vola Ve lo giuro Mio dio Santo Scusate un attimo Ok Un piccolo sfogo ci voleva Allora Siete dei bastardi Ma questo figlio di puttana Non vola Vola Da dio Vai da dio Porca miseria Vai Oh mio dio Stavolta l'ho preso Però eh Cioè guardate Io ci clicco Ci provo Ma non va Non Va Non va Non va Forse devo tenere premuta Ma come ce la faccio Mi sto un po' incazzando L'ho preso No No Devo rivedere il walkthrough Allora Dai carica Non rompere il palle Non rompere il palle Dai 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 Ok Allora Appena carica Apriamo il video E andiamo direttamente a questo Livello qui Ah Clicca addosso Ah Lo trascina Tipo Quindi dovrei fare così Ma va Affanculo Va Ma va Affanculo Tu e la tua Merda di Fantasia di merda Nel fare questo gioco di merda Va Affanculo Merda Ok World World Record What the fuck Ok ho capito che devo spostare tipo il cartello Credo Non ne sono sicuro al 100% Oh mio dio Che cazzo sarà è Ah è il timer Sì scusate Ho cambiato Ho rimesso la rom originale del mio G2 Perché è uscito l'Hollipop E ci sono queste suonerie Tipo fatelo al coro Di Vienna Dal coro giovanile di Vienna Una cosa del genere Sono molto bravi Per carità Però Oddio Le sveglie sono paurosamente Come dire Mi fanno addormentare Ecco Va bene Intanto il tempo è finito Io sono SpiegeranoToto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su Twitter Google Plus O sul mio sito SpiegeranoToto.x10.mx Scusate No Scusate Cancellate l'ultima frase Il mio sito è SpiegeranoToto.ml O su Facebook Digitando Facebook.com SpiegeranoToto Official Io sono SpiegeranoToto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Qui sul mio canale E probabilmente Sottolino Probabilmente Ci vediamo domani Con Techcraft Ciao Ciao